Buonasera, buonasera signore e signori, grazie, grazie di essere anche questa serata, l'ultima serata di questa edizione del premio Sergio Amidei così numerosi qui al Parco Coronini. Oggi ultima giornata di premio, il pomeriggio di questa giornata è stato pieno e interessante come gli altri pomeriggi ma forse una nota in più perché alle ore 18 c'è stato un incontro, uno straordinario incontro, è stato un piacere poterli ospitare, li abbiamo anche con noi questa sera, vogliamo rivolgere loro il nostro saluto. Signore e signori è con noi il maestro della fotografia Dante Spinotti. Buonasera, grazie. E con noi, e l'abbiamo visto anche oggi pomeriggio, è venuto a trovarci anche il regista Ferdinando Vicentini Orniani. Buonasera, grazie di essere con noi anche questa sera che è l'ultima serata, come sappiamo, serata in cui verrà assegnato il premio alla migliore sceneggiatura, ma prima di iniziare i saluti e i ringraziamenti. Allora, vorremmo ringraziare per la realizzazione di questa trentunesima edizione del premio Sergio Amidei e abbiamo il piacere ovviamente di ringraziarli la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il comune di Gorizia, la camera di commercio, la provincia di Gorizia, l'agenzia Conlun Viaggi, l'ambasciata di Francia in Italia, Institut Francaise d'Italie, associazione culturale Bazar Mediterraneo, associazione culturale Crisalide, associazione culturale Omelette, Biolab, Caffè Garibaldi, Cine Club Gorizia, Consorzio e tutela Vini Coglio e Carso, IAT, Ufficio del Turismo Friuli Venezia Giulia, IASIC, Azienda Agricola Borgo San Daniele, KB1909 Società Finanziare Operazioni, McDonald's di Gorizia, Mediateca Provinciale di Gorizia, Ugo Casiraghi, Villa Russiz e i nostri media partner MyMovies e Mediacritica.it. Vorremmo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutto lo staff, dal comitato scientifico al personale di sala che ha svolto un magnifico lavoro in questi dieci giorni che sono lunghi ma sono stati veramente appassionanti, quindi grazie ancora. Lunghi, sì, appassionanti però veramente anche grazie alla vostra presenza che è stata costante, forse mai come in questa edizione così massiccia, quindi un grazie a voi tutti. Ora passiamo alla cerimonia di premiazione. Io invito a raggiungerci sul palco il presidente dell'Associazione Cinematografica Sergio Amidei, l'avvocato Nereo Battello che leggerà la motivazione e l'assessore del comune di Gorizia Stefano Ceretta che consegnerà il premio. Il premio internazionale per la migliore sceneggiatura premio Sergio Amidei 2012 va a Ashghar Faradhi per il film Una separazione. L'autore iraniano ha saputo conciliare il racconto di una storia personale e l'analisi metaforica di una società, i conflitti quotidiani di una comunità e il senso universale della verità e dell'onestà, offrendo in questo modo un'opera straordinaria in cui la scrittura e i personaggi brillano di luce propria. Ritira il premio per la SACER distribuzione Alessandra Tiele Grazie. Grazie. Volevo ringraziare a nome del regista e sceneggiatore Ashghar Faradhi che ha scritto fra l'altro una mail che adesso non leggerò perché ce l'ho per storto ma non fa niente, tanto più o meno so cosa c'è scritto. No, una bellissima mail a Giuseppe Longo ringraziando e ha veramente cercato di venire anche perché lui avendo iniziato proprio la carriera come sceneggiatore questo premio gli ha fatto particolarmente piacere e sarebbe venuto molto volentieri. non ha potuto perché sta girando il suo nuovo film siamo venuti noi dalla distribuzione che siamo molto fieri di aver potuto distribuire questo film e se qualcuno di voi non l'ha visto vi consiglio di andarla a vedere. Grazie.